Musica Vorrei prendere le manine di Sant'Anna perché tra 15 giorni vado in sala a parto e che mi protegge Quindi le manine le porterò all'ospedale? Sì Venerata come Santa ed invocata come protettrice delle madri e delle partorienti che si affidano a lei con grande fede e devozione La comunità di Santa Maria del Principio a Torre del Greco ha celebrato i Santi Anna e Gioacchino Un appuntamento tanto atteso dal quartiere che ogni anno partecipa alle celebrazioni eucaristiche e alla processione Purtroppo sospesa anche quest'anno a causa del Covid Don Luigi Maiulo parroco di Santa Maria del Principio Sant'Anna e San Gioacchino sono dei nonni quindi il nostro pensiero va ai nonni Già negli anni passati si celebrava la festa dei nonni nel giorno dei Santi Gioacchino e Anna Adesso è ufficialmente che Papa Francesco ha voluto che la domenica prima della festa dei Santi Gioacchino e Anna Si celebrasse la festa dei nonni e degli anziani Gioacchino e Anna sono nonni perché nella tarda età hanno avuto il dono della maternità e della paternità e hanno vissuto anche la gioia dell'essere nonni con la nascita di Gesù Come vive la comunità la festività di Sant'Anna e San Gioacchino? La comunità è sempre in festa con Sant'Anna e San Gioacchino perché viviamo una volta all'anno ma tutti i giorni perché vengono tante donne in attesa per ringraziare Sant'Anna e tante donne che chiedono a Sant'Anna il dono della maternità Anche quest'anno non c'è stata la classica processione ma niente è cambiato nell'animo dei credenti? E non c'è stata perché ci è arrivato proprio ultimamente un decreto della Regione Campania che dovevamo sempre mantenere tutti i regolamenti riguardo a Covid Ma niente è cambiato perché noi celebriamo la festa liturgicamente Nelle parole di Don Luigi Maiulo il senso profondo della festività religiosa In questo tempo di pandemia la Chiesa deve essere luce per il mondo attraverso la santità di uomini e donne Che fidandosi totalmente di Dio si sono lasciati abitare dalla sua presenza santificante Presente alle celebrazioni anche il sindaco Giovanni Paloma Il Covid non ha affermato il popolo torrese accanto a Sant'Anna e San Gioacchino che sono dei nonni Sì, il Covid non ha affermato quella che è la tradizione di Sant'Anna e San Gioacchino Sant'Anna che è la proiettrice delle partorienti C'è un gavai di partorienti, di fedeli E questo è un momento per tenerci uniti in un momento così difficile La devozione di questo quartiere è sempre vicino a Sant'Anna e San Gioacchino Anche se lei che è un portatore non può più vivere la tradizionale uscita con il carro Quest'anno non chiediamo solo che proteggano le mamme e le donne gravide Ma che possono fare qualcosa affinché questa pandemia possa smettere e ritornare alla serenità e alla gioia Che sempre ci ha distinto in questo paese e soprattutto in questo quartiere Ricordando una frase di Gesù che dice Dal frutto si riesce a capire la pianta Voleva significare che la devozione e alcuni valori della vita vengono dati dal padre e in figlio Vengono tramandati E noi così siamo stati cresciuti dai nostri genitori Con la fede, non solo verso tutta la chiesa ma proprio verso i santi Anna e Gioacchino Un momento per pregare e per ritrovarsi che unisce tutti, anche i più giovani Come vivono i giovani del quartiere la festività di Sant'Anna e San Gioacchino? Con una grande importanza perché Sant'Anna e San Gioacchino rappresentano i nonni del nostro quartiere E sono importanti appunto proprio perché sono un'eredità Riportandoci anche al discorso di Don Ghietano, al nostro quartiere e alla nostra fede Riportandoci anche al nostro quartiere di Sant'Anna e San Gioacchino rappresentano i nostri genitori Riportandoci anche al nostro quartiere di Sant'Anna e San Gioacchino rappresentano i nostri genitori